Primo incontro ieri a Genova, in Regione, per cercare di trovare una soluzione al problema legato alla gestione e allo sviluppo del Polo Universitario Imperiese, sorto dopo che le recenti riforme hanno tolto fondi e competenze alle province. Al vertice hanno preso parte il Presidente Giovanni Totti, gli assessori Marco Scaiola in aria a cavo e sogna viale, oltre al Presidente della provincia d'Imperia Fabio Natte e al Rettore dell'Università di Genova Paolo Comanducci. In particolare Marco Scaiola ha evidenziato come la Regione ritenga fondamentale il mantenimento e l'ulteriore sviluppo del Polo Universitario Imperiese. Per questo, nei successivi incontri che si terranno prossimamente, si cercherà di individuare una soluzione per la gestione della struttura di Vianizza, reperendo anche le necessarie risorse che la provincia non può più mettere a disposizione, come accadeva in passato. Quello di ieri è stato soltanto un primo incontro dal quale è emersa la sinergia da parte di tutti gli enti coinvolti e la volontà di tutti di raggiungere l'obiettivo. Ora seguiranno ulteriori incontri tecnici per concretizzare il progetto e giungere una programmazione almeno decennale, tale da consentire investimenti e potenziare le attività didattiche anche con uno sguardo verso le produzioni tipiche locali.